Altre le emozioni della gara avremo a breve anche un passaggio di grado, gli esami di Dan, che sono il prossimo sabato, il 9 di dicembre, e per i quali ci stiamo preparando duramente, tutti insieme abbiamo 5 esami, 5 ragazzi che vanno a svolgere l'esame, quindi anche dopo la gara non ci riposiamo, non ci fermiamo, puntiamo a crescere personalmente, ad avere prestigio come persone e aumentare la nostra preparazione, la nostra bravura nella disciplina. Arrivare alla cintura nera non è un traguardo, continuiamo sempre ad allenarci, a cercare di raggiungere sempre risultati migliori. I ragazzi in questo momento si stanno allenando appunto per gli esami che si affrontano su vari campi del taekwondo, quali il combattimento, i pumse e le tecniche.